Sì, lo sta tentando da tempo di entrare in contatto con Putin, si è parlato addirittura di un viaggio a Mosca oltre che a Kiev. Ovviamente il canale diplomatico, oltre a quello ufficiale della chiesa che fa capo al segretario di Stato Parolin, c'è anche quello di vari inviati in contatto con la chiesa ortodossa. Finora però siamo, come si vede, allo stallo proprio per la ostilità dei governi, sia ucraino che di Mosca, di cercare di arrivare a una tregua. Volevo dire un'altra cosa, è stata evocata all'Unione Europea per entrare anche essi come protagonisti nel rapporto di pace, diciamo così, ma non mi pare di vedere all'orizzonte grandi risultati. L'unico che ha tentato è stata la Francia di Macron, ma non mi pare che abbia avuto grandi successi. Per non parlare del grande assente, cioè delle Nazioni Unite che in questo momento proprio non toccano palla in questo stato di cose, dovrebbero essere tra l'altro l'organismo internazionale più accreditato per arrivare a un cessato il fuoco quanto emana. Invece non succede niente, non succede niente proprio per il fatto che questa guerra sta continuando e io ricordo che ci sono 100.000 morti da una parte e 100.000 dall'altra, per non parlare di tutto il resto, dei profughi, dei territori devastati, dei bambini rapiti e tutto quanto. Quindi Misiani siamo ancora un po' all'anno zero, diciamo, dal punto di vista dell'Europa che intraprende un percorso diplomatico. Sì, ma questo non vuol dire rendersi di fronte alle migliaia di morti, alle distruzioni e alle sofferenze di un intero popolo. Io credo che quando l'Europa svilupperà l'iniziativa mettendo sul piatto il suo peso, le cose potrebbero cambiare. Certo, adesso non è così, come è stato giustamente sottolineato, vale sia per l'Unione Europea che per le Nazioni Unite, ma credo che questo non possa essere una scusante per lasciare le cose come stanno. Va bene, allora andiamo in pubblicità e poi ci spostiamo sui temi del lavoro e dei rincari. Grazie.